Benvenuti su Gossip TV 24. Prima di continuare con questo video, ci teniamo a chiedere il vostro supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille. Nicola Turetta, padre di Filippo, ha condiviso con profonda angoscia la drammatica situazione che la sua famiglia sta affrontando in un'intervista alla Repubblica. Ha dipinto il passato di Filippo come quello di un ragazzo apparentemente perfetto, bravo a scuola e armonioso nei rapporti. Tuttavia, il dramma si è consumato quando, travolto dalla rabbia, Filippo ha commesso un atroce omicidio. Nicola, in lacrime, ha cercato di spiegare il drastico cambiamento nel comportamento del figlio, dall'adolescente perfetto a un assassino senza pietà. Le dichiarazioni di Nicola rivelano un padre confuso e dolorante, incapace di comprendere come il figlio tranquillo e affettuoso abbia potuto trasformarsi in un assassino. Nicola ha sottolineato la normalità della relazione passata di Filippo con Giulia e ha espresso la sua incredulità di fronte al cambiamento repentino. La sua famiglia è ora sommersa dallo shock, senza avvisagli evidenti, se non la tristezza costante di Filippo. Nicola ha anche condiviso il tentativo di Filippo di affrontare la fine della relazione con Giulia, arrivando a esprimere il desiderio di mettere fine alla propria vita. Nonostante i tentativi di conforto da parte del padre, Filippo ha compiuto un atto inimmaginabile, lasciando Nicola e la sua famiglia devastati. La comunità è ora invitata a esprimere le proprie opinioni su questo tragico evento e sulle parole di Nicola Turetta, con la speranza di trovare una comprensione in un caso così assurdo e doloroso. Lascia un commento al video per farci sapere cosa ne pensi. Ci teniamo a chiedere il vostro supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille.